Ciao a tutti. Finalmente riesco a far vedere le langhe anche alla gravel. L'emergenza covid è quasi finita e quindi si può girare liberamente. Mi sono portato sulla gravel con un forte d'alba. Guardatevi il panorama. La giornata non è bellissima ma ci accontentiamo. Adesso andiamo un po' giù per le vigne. Sigla con un gravel non sono banale. E' molto importante portare il terreno, sentire bene le linee, fare attenzionare a impuntarsi. Non basta un niente per perdere l'equilibrio. Il terreno è abbastanza fabbioso, un po' più bagnato ma anche un guasterello. becco novello. Quanto è bello novello. becco novello. Ah che bello. Devo armi nel langhe. Per queste stradine. Maggio che è bike. No. Ho ho. Ciao. Senti come cinquenta no? Fonale. No, bello che è veramente l'accordo. Questo giro lo avevo fatto un po' metri qua con le bike ma tutto un'altra cosa che è una gara bene. Ecco Artone, peccato che il tempo non sia benissimo C'è un po' di postia, bellissimi fiori profumati E qua comincia il percorso itinerario storico e arqueologico E' arrivata la campana della merda Ed eccomi a Benevagemma Ho attraversato il paese Ho fatto un po' di fatica a scaricarmi la traccia sul Garmin E comincia ufficialmente il percorso Benevagemma GONGOLÈ E' un po' di soldi E' un po' di soldi Questa cosa deve fare il bello Sì, bella cacciatella Guarda come nei boschi viene d'accento Qua è la cosa verde, la cosa rosso curiosamente in verde Aspetta qualcosa in mezzo ai vigni Ma quanto è bello andare in grave sopra i colpi Vangaroli Mi ricordavo questo punto non particolarmente Infidile Prendi 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 io se hop hop ha ha bellissima ovviamente una cosa abbandonata ci sono abbandonata anzi apaccio giù là ok gongole aiuti cazzo che salto mamma mia adesso siamo sempre cani non si può dire che il sentiero sia molto battuto quasi quasi visto che è luna ed è un bel poche giro ne ne so ne ne so un bel torno all'inizio eccomi di nuovo un po' o un po' un po' un po' un po' che insegna Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie a tutti.